cittadini e poi la sottrazione graduale del territorio ai cittadini. Voi sapete che cosa hanno fatto nel 1948 in Palestina? Ve lo racconto io. Allora, nel 1948 in Palestina c'era qualche testa di cazzo palestinese-arabo che arrivava quello impaccato di guatrini che veniva dall'Europa e voleva ricomprare la terra dei padri. Giuseppe, Giuseppe, voleva ricomprare la terra dei padri, no? E veniva lì con i dollari. Veniva con un pacco di dollari e dava sti soldi a questi poveri contadini palestinesi. In questo sistema si sono comprati 8 milioni di ettari di terreno nel giro di 4-5 anni. Dopodiché, siccome tutti i terreni di un determinato territorio erano in mano a questi signori impaccati di guatrini, questi signori impaccati di guatrini a quelli che non volevano vendere gli facevano passare dei guai. In un territorio dove sono tutti, che ne so, tedeschi, c'è un italiano, lo mettono in minoranza. Pure se lui è il proprietario del diritto reale, di cittadinanza, di nascita. E questa storia è andata avanti per anni. E questa storia ha portato alla situazione della Palestina attuale. E questa storia è la stessa storia che sta succedendo qui da noi. Questi che comprano il demanio pubblico, le autostrade, le banche, e che comprano anche il territorio in giro per l'Italia, e che ci comprano le case ai fallimenti, ma a che fanno riferimento alla fine dei giochi? Provate a pensarci voi. Voglio parlarvi di un'altra cosa. Questo è un argomento chiuso, ma vi voglio parlare di un altro argomento che taglia la testa al toro riguardo a quello che hanno detto tutti. In un sistema monetario che esibì la Golden Sardin Exchange, che vigeva fino al 15 agosto del 1971, di cui si è parlato, qualcuno ha accennato qui, prevedeva una serie di cose. Allora, tutte le monete, tutte, sulla facciata c'avevano scritto pagabili al portatore, in un modo o nell'altro, ma tutti ce l'avevano scritto. Perché? Perché uno andava alla Banca d'Italia con la mazzetta da 50.000 o 200.000 e gli davano 10 once di oro, 20 once di oro, a secondo della quotazione del giorno. Dal 71, quindi il portatore di quella moneta era il reale possessore del diritto di possesso. e quindi ne poteva fare quello che voleva. E soprattutto era come avere, per esempio, una casa in proprietà. Adesso lasciamo stare che la casa in proprietà della prima casa non paga le tasse ed è più che giusto ed è lecito. Io personalmente non l'ho mai pagata, la tasso sulla proprietà della casa, perché è la cosa più ingiusta che c'era. Tant'è che poi sono stati costretti a toglierla, perché è anche incostituzionale quella tasse. Cosa che io ho denunciato alle procure della Repubblica più di qualche volta. A proposito, io ho fatto 1164 denunce contro pubblici ufficiali, ministri, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti a scendere, dai presidenti, dai presidenti, dai Draghi e compagni, non sono tutti. Allora, quindi uno era proprietario del denaro che c'aveva in tasca. Era il valore che effettivamente uno portava in giro con sé ed era il valore che dalla centralità della banca centrale veniva sottratto e portato a lui, perché se io andavo alla Banca d'Italia mi davano l'oro, giusto? Per cui era giusto che i cittadini pagassero e contribuissero le spese dello Stato. Ma a partire dal 71 le cose sono cambiate finché poi nel 92, come ha detto Giuseppe, hanno avuto un salto di qualità e poi nel 2002 ci hanno completamente fregato. Che cosa è successo? È successo che è cambiato il sistema di emissione monetaria, che poi vediamo adesso che significa, ma contestualmente non è cambiato il sistema impositivo fiscale. Perché le due cose sono proprio di univoche, intimamente collegate. a partire dal 2002 è stata messa in atto la non convertibilità dell'euro con l'oro, tant'è che sull'euro non c'è scritto un cavolo. L'unica cosa che c'è scritto è BCE. Però nessuno nota una cosa che è scritta ancora più piccola, perché sul Banco Nota c'è un cerchietto con dentro una C, che nessuno ha mai notato. pochissimi sanno che cos'è. Quello è il C del copyright. Allora, quello è un pezzo di carta e non un titolo al portatore, perché se fosse un titolo al portatore ci sarebbe scritto pagabili al portatore a vista. e quindi non ha nessun titolo giuridico. Cioè, quello è semplicemente... La prima truffa, la prima truffa, diciamo, applicativa è questa. Cioè, quello non ha nessun valore di nessun genere, salvo il fatto quel valore che io accettandolo implicitamente gli concedo. Ecco perché, fra l'altro, nel trattato di Maastricht c'è l'obbligatorietà del corso forzoso dell'euro. Perché se non ci fosse quella legge lì, io potrei mettere in circolazione i bigliettini che davano una volta delle 100 lire e il resto che non c'era e hanno corso ufficiale uguale. Però, per evitare questo, hanno dovuto fare questo escamotage. Però, torniamo un attimo alla fiscalità. Quindi, se io... Ah, ecco un'altra cosa importante. Quindi, e concludo, il concetto è che l'euro non è nostro. Non solo ci viene sottratto il valore facciale di emissione il signoraggio e quant'altro. Ma ci viene anche la gente, questo anche qualcuno qui che più è dotto non lo sa. Noi non siamo proprietari di quella moneta ma la affittiamo. La prendiamo in affitto. Oh, allora, quindi questo la dice lunga. Allora, vi faccio l'equazione. Prima avevamo una moneta che era nostra. Fate conto una casa vostra o un'automobile, un negozio, quello che volevo, un qualcosa che è una rendita. Quindi è giusto che su quella cosa vostra pagate delle tasse. Ma se io ho una moneta che non è mia, dove pago il signoraggio, dove pago l'affitto, è come se ci avessi una casa in affitto e secondo voi chi deve pagare le tasse sulla casa in affitto? Tutta l'economia, tutta l'economia, tutta, dal gelataio alla puttana, al prete che fa il confessore, al ministro, eccetera, tutti vengono pagati in euro e in euro gli euro vengono emessi dalla Banca Centrale Europea. Sia quelli reali, quelli stampati, sia quelli virtuali, elettronici o altro. Quindi tutto l'incremento dell'economia viene emesso in euro che sono di proprietà della Banca Centrale Europea. Quindi se viene tutto misurato e valorizzato da quel pezzo di carta che non è neanche nostro, sarà il proprietario del pezzo di carta che non è nostro che dovrà pagare le tasse. Io questo l'ho detto prima che avevo presentato 1164 denunce, ho finito, le 1164 denunce sono anche contro la truffa della fiscalità perché la fiscalità aveva un senso fino al limite al 31 dicembre del 2001 intesa come ancora oggi ce l'abbiamo e dal 2001 doveva entrare in vigore un altro tipo di fiscalità. Cosa che non è stata. Quindi questo per dimostrare quanto ci truffano, come truffano, eccetera. quindi ho fatto anche una richiesta sempre per via giudiziaria per il reintegro e qui abbiamo una nostra associazione che per cui il diritto di cittadinanza deve essere riportato in proprietà dei cittadini ho finito. Fine. Grazie. 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 Grazie.